Sono qui con Gianluca Fausti, direttore marketing di Cellini Caffè e con Diletta Sisti, brand ambassador. Il mondo del caffè sta vivendo un momento esaltante da un lato ma non semplicissimo dall'altro, quindi vogliamo chiedere a Gianluca come vede il presente e il futuro del caffè al bar. Noi di Cellini crediamo che il mercato del caffè sia un mercato in un momento importantissimo, in un momento di fortissima evoluzione, un momento sicuramente non facile ma nel quale per andare avanti, per differenziarsi, quello che conta è puntare sulla qualità del servizio, sulla qualità delle materie prime e andare a lavorare per offrire servizi che ci distinguono come baristi da quella che è la concorrenza. In particolare noi come marca vogliamo essere a fianco dei nostri clienti sicuramente, ma di tutto il mondo, di chi fa del caffè, una professione, essere a loro fianco per offrire idee, per offrire consigli, per offrire strumenti sia di prodotto che di formazione che permettano di fare questa differenza sul campo. Differenziarsi oggi dalla concorrenza al bar è, penso, una cosa molto importante. Quali sono gli strumenti che poi avete pensato di dare al barista? Innanzitutto strumenti di prodotto, come per esempio la nostra linea di Specialty Crafted Blend, quindi caffè speciality blendati per offrire un'esperienza comprensibile, ma sono soprattutto strumenti di formazione su quelli che sono i trend, su quelli che sono le tendenze, e su quelle che sono le opportunità per differenziarsi dalla concorrenza, come per esempio la Latte Art, un servizio accurato e quant'altro, insomma si possa calare nella specifica realtà di ogni singolo punto vendita. In particolare sulla Latte Art vorrei chiedere a Diletta, Sisti, in che modo può essere utilizzata il bar e perché è così importante? Allora, il ruolo della Latte Art è sicuramente quello di fidelizzazione del cliente, ma è anche sinonimo di formazione per quanto riguarda la conoscenza della materia prima, a partire dall'estrazione dell'espresso, per poter arrivare alla realizzazione di figure in Latte Art. Dobbiamo avere la conoscenza anche delle tecniche di montatura del latte semplice, dalla montatura del latte per il cappuccio classico, per poi arrivare alle figure più difficili in Latte Art. Quindi sicuramente un ruolo di fidelizzazione, ma dietro alla Latte Art c'è sicuramente della formazione. Possiamo dire che un cappuccino fatto bene e bello è praticamente sempre o quasi sicuramente anche un cappuccino buono? Esattamente, per realizzare figure in Latte Art la montatura deve essere perfetta e l'espresso deve essere una buona tela da dipingere. A proposito di formazione Latte Art, so che avete delle iniziative, avete realizzato delle iniziative proprio qua a SIGEP. Vuoi parlarcene? Sì, oggi in particolare Diletta è stata protagonista di due importanti momenti. Il primo è stato una masterclass relativa appunto alla Latte Art, in cui con numerosi partecipanti lei ha spiegato tutti i segreti, i trucchi del mestiere per fare delle figure di Latte Art, magari semplici, ma che sicuramente hanno un impatto e che vanno a basarsi proprio su una conoscenza approfondita di quelli che sono i principi tecnici. Tutti questi suggerimenti sono disponibili anche nel mondo Barista Society by Cellini, una vera e propria enciclopedia tecnica del caffè, che da oggi è disponibile su YouTube, Instagram e TikTok, senza dimenticare l'aspetto show con il nostro Dolce Nuvola Contest, che è stato il primo contest di Latte Art in coppia, con una figura reverse. Grazie a tutti. Grazie a tutti.